Ciao a tutti, in questo periodo in cui è difficile potersi muovere di casa per effettuare la spesa quotidiana abbiamo pensato di realizzare per voi un tutorial che vi aiuti a capire come effettuare la spesa online da Lidl. La prima cosa che dovete fare è collegarvi al sito www.lidl.it che è la schermata che vedete qui rappresentata e scrollare la pagina fino ad arrivare al fondo pagina cliccate su spesa online, vi apparirà questa videata, scendete ancora, verificate se nella vostra area sono presenti i punti vendita che aderiscono a questa iniziativa e cliccate su ordina ora vi si aprirà la pagina di supermercato24.it per poter iniziare a fare la vostra spesa dovete accedere a questo servizio registrandovi, inserendo una vostra mail e una vostra password e creando così un account oppure potete scegliere in alternativa di entrare con il vostro account facebook una volta registrati vi apparirà questa schermata in cui dovete inserire il vostro cap per verificare la copertura del servizio dopo di che si aprirà una schermata con l'indirizzo di consegna e dovrete inserire l'indirizzo al quale volete fare capitare la vostra spesa come vedete si apre una schermata con diversi supermercati, non soltanto la Lidl voi scrollate e andate fino alla Lidl che è di vostro interesse vi si aprirà questa schermata con i prodotti acquistabili per facilitare il vostro lavoro andate sulla sezione categorie, un menu a tendina e selezionate i prodotti di vostro interesse io andrò a selezionare ad esempio l'acqua mi si aprono tutte le opzioni possibili quindi avete questa schermata, selezionate il prodotto di vostro interesse e la quantità che intendete acquistare una volta terminato di fare la vostra spesa avrete qui sopra i prodotti in carrello cliccate su vai a carrello vi chiede se è dimenticato qualcosa si apre una panoramica del vostro carrello e vi dà un'alternativa vi chiede se il prodotto è terminato potete essere contattati per un'alternativa oppure sostituire direttamente con un similare senza essere contattati quindi effettua tutto il negozio se è tutto a posto verificate andate al palamento e ci apre questa schermata possiamo selezionare quindi un orario per la consegna io vado ad indicare l'orario di lunedì tra le 17 e le 18 vado ad inserire tutti i miei dati di consegna una volta inserito l'indirizzo vi chiederà di avere un numero di cellulare al quale verrà inviato un codice di verifica che inserirete nell'apposito box terminato questo procedimento vi si aprirà la schermata con il metodo di pagamento per cui deciderete se pagare in carta di credito oppure in contanti alla consegna con un sovrapprezzo di 2 euro inserito il metodo di pagamento quindi o la carta o inflegate l'opzione contanti potete andare ad inserire il codice sconto questa sezione qui vi chiede se avete un codice sconto in questo caso abbiamo inserito il codice LidlCasa24 che abbiamo trovato sul sito della Lidl diamo un clic su applica e ci dice che il codice sconto richiede un carallo di almeno 50 euro diamo la conferma dell'ordine a questo punto e attendiamo la risposta del sito l'ordine è stato ricevuto il nostro shopper ci porterà la spesa in casa il 31 marzo dalle ore 12 alle ore 13 e aspettiamo in questa maniera con questo numero di ordine qui ci dice che finché il nostro shopper non avrà iniziato la spesa potremmo aggiungere dei prodotti quindi possiamo andare in questa sezione e aggiungere delle cose da acquistare spero che questo tutorial vi sia stato utile e sia stato abbastanza chiaro se avete delle domande potete farle nei commenti sotto questo video e buona spesa online per tutti quanti